Nel 2018 l'attività economica Umbra ha continuato a crescere a un ritmo modesto ancora inferiore a quello dell'Italia. All'ulteriore espansione delle esportazioni si è contrapposto l'indebolimento di consumi e investimenti. Sulle prospettive per l'anno in corso grava la cresciuta incertezza dell'evoluzione della situazione economica italiana e internazionale. E quanto detto oggi in conferenza stampa durante la presentazione del rapporto della Banca d'Italia dell'economia regionale a Perugia. Sentivo che si vivacchia. Anche il 2018 ha dimostrato come i due anni precedenti una crescita abbastanza tenue, abbastanza debole, che soprattutto è concentrata sempre in una quota ridotta di imprese, che sono quelle di medio-grandi dimensioni, che sono presenti in nicchie di mercato dinamiche, che sfruttano la crescita del commercio mondiale. Da sole però queste non riescono a trainare l'intera economia che evidentemente continua a soffrire di problemi di carattere strutturale. L'occupazione? L'occupazione anche nel 2018 come nel 2017 è stabile. Nonostante una ripresa, una crescita che dura ormai dal 2015, i livelli occupazionali continuano a rimanere abbastanza stabili. Su questo influisce anche il minore ricorso alla cassa integrazione, che comunque il cassa integrato è registrato come occupato. Il fatto che oggi ci sia molta meno cassa integrazione incide su questo dato. In linea generale però è un tipo di economia che fatica a creare lavoro. è un tipo di economia che fatica a creare lavoro. è un tipo di economia che fatica a creare lavoro. è un tipo di economia che fatica a creare lavoro. è un tipo di economia che fatica a creare lavoro.